Ehi tu, sai che cosa penso? Penso che la mafia ha seppellito tonnellate di rifiuti tossici provenienti dall'industria del nord, sotto ai campi dove crescono i pomodori che mangiano i nostri figli, e anche sotto ai prati dove brucano le vacche, dal cui latte si produce la famosa mozzarella campana. Una bella caprese ci possiamo mangiare. Con queste premesse, e tenendo conto dei riconosciuti, evidenti tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri della Tav in Val di Susa, come possiamo lasciar gestire dagli appaltatori dei lavori la scottante questione dell'amianto e dell'uragno che si trovano dentro la montagna da perforare? Come possiamo permettere che le falde acquifere che danno l'acqua ad una città come Torino rischino di scomparire per sempre? Non è che si voglia essere contro il progresso, è che siamo in Italia, e quindi certe delicatissime questioni inerenti alla qualità della vita di tutti vengono ridotte a retorica televisiva da quattro soldi. L'esperienza ci insegna però che in Italia non possiamo permetterci di rischiare di far gestire alla mafia questioni vitali come l'acqua che beviamo o l'aria che respiriamo. Per questo motivo, prima di altri, ora è sempre NOTEV!